Platone è un idealista e, come tutti i veri idealisti, è un realista. Non disegna castelli in aria. Provo a dire, la sua filosofia è, si dà il compito di mostrare che un altro mondo è possibile. Descrive come nasce la città. La città nasce dalla scarsità, nasce dalla divisione del lavoro, dal fatto che gli esseri umani hanno bisogno di tutto e nessuno è capace di fare tutto, quindi ha bisogno di associarsi agli altri. Dunque, nasce dalla ricerca dell'utile. Primo livello, la città di porci, cioè poracci, frugali, si accontentano di poco. Non si fermano lì per nulla. La città cresce, cerca il lusso, lo ottiene. Il lusso, quando cerchi il lusso, fai la guerra. Guerra, lusso. Cioè, ti vuoi espandere, ti vuoi arricchire, vuoi prendere le cose degli altri. E dunque c'è una differenziazione sociale fra quelli che vivono dentro la città e quelli che combattono per la città. Che sono i custodi, i fuliches, le sentinelle. Che hanno una capacità di visione dell'universale. Mentre dentro la città ciascuno pensa ai propri interessi, c'è dentro la città qualcuno che pensa alla città come a un tutto. Perché la difende. Non difende i propri interessi, difende tutta la città. Città, economia, economia sviluppata, guerra. È un percorso pratico ed è un percorso teorico. Solo grazie al lusso e alla guerra è possibile che si formi una conoscenza dell'intero. Poi catena politologica delle forme politiche. Platone dice, beh, c'è una possibile forma politica non male, che si chiama timocratica, cioè fondata sulla stima. Quindi è fondata sull'onore. Poi questa degenera molto in fretta perché gli uomini sono quello che sono, cioè tendenzialmente egoisti. Se non ci sono i filosofi le cose vanno così, che la città timocratica diventa la città oligarchica, cioè dove le persone cercano non soltanto l'onore e il rispetto, ma cercano la ricchezza. Poi è una città dove comandano i ricchi. Il popolo in greco, quando si parla di politica, vuol dire i poveri. E come democrazia non vuol dire il governo di tutti, vuol dire il governo dei poveri contro i ricchi. E i poveri? Eh, i poveri stanno lì e sono oppressi dai ricchi. Poi anche i ricchi fra di loro sono sempre in conflitto. Qualcuno di essi perde, perde i soldi, perde tutto e si incattivisce. E questi sono come i fuchi, cioè i maschi delle api, inutili e cattivi. E questi fuchi fanno la rivoluzione. Le élite rivoluzionarie. Ricchi decaduti, pieni di rabbia e di risentimento, che eccitano i poveri contro i ricchi. La rivoluzione riesce durante una guerra, quando i ricchi sono impegnati, come governanti della città, sono impegnati a fare la guerra all'estero contro un'altra città e adoperano come truppe, poveri ovviamente, e allora durante la guerra i poveri possono ribellarsi, se sono bene mossi dai demagoghi. Russia 1917 è uguale. Vincono, fanno la rivoluzione, la vincono. Che cosa consiste? La democrazia consiste nella persecuzione dei ricchi. Che è vero, cioè nella città antica, quando c'è la democrazia, c'è questa continua... La persecuzione avveniva attraverso procedure giudiziarie, tipicamente la grafè paranomon, cioè il ricco veniva accusato di essere nemico della Costituzione. Poi arrivavano i sicofanti, cioè i testimoni pagati, che dicevano sì è vero, l'abbiamo sentito parlare contro il governo del popolo, e quello veniva ostracizzato, depredato, messo a morte o esiliato. Il meccanismo della democrazia produce una instabilità della città, una continua lotta della città dentro se stessa, perché la democrazia è il regno dei demagoghi che sono poi in lotta l'uno contro l'altro. E poi c'è la lotta dei ricchi contro i poveri, perché i ricchi, certo, stanno subendo, naturalmente, sono in minoranza, hanno tutto contro, però, insomma, riescono ancora a difendersi. È una situazione, quella della democrazia, estremamente... è priva di Costituzione, è priva di stabilità, ecco. E a un certo punto questo fa male anche al popolo, questa instabilità fa male anche al popolo, che cerca protezione. In chi la cerca? Nel migliore, nel più abile, nel più aggressivo dei fuchi, e gli dice proteggici tu. E questo ben volentieri li protegge, rade al suolo ogni forma politica, ogni istituzione, e diventa il tiranno. E all'inizio vive depredando i propri nemici politici, come è ovvio. E poi, una volta finito di depredare i nemici politici, depreda il popolo, il quale, così, si trova a essere non solo servo del tiranno, ma servo dei servi del tiranno, perché il tiranno si sente in pericolo, sa di essere odiato, si circonda di guardie del corpo, che sono degli schiavi a lui fedeli, le SS, che terrorizzano il popolo, che così è schiavo degli schiavi del tiranno. Il tiranno, a sua volta, non è nemmeno un uomo, anche lui è descritto come un lupo, come una belva, un essere nel quale le componenti dell'anima, che sono uguali in tutti gli uomini, quello che cambia è la proporzione, sono uguali in tutti gli uomini, cioè la componente razionale, la componente del coraggio e la componente del desiderio, sono completamente sovvertite, è un uomo in preda al desiderio, una belva, e dunque è solo, perché non ha nessuno, non riesce a istituire un rapporto umano con nessuno, infelicissimo, e produttore di ingiustizia enorme nella società e nella propria anima. Questo meccanismo è un meccanismo ciclico, sostanzialmente, no? Timocrazia, oligarchia, democrazia, tirannide. Naturalmente Platone, che era di famiglia ricchissima, aristocraticissima, un uomo abituato al comando, per tradizione, non trova che ci sia l'uno di male per un filosofo, farsi amico un tiranno, perché almeno ha il potere, farsi amico un tiranno e convincerlo a governare secondo filosofia. Cosa che si è vista un bel po' di volte nella storia. Il povero filosofo che va dal tiranno e gli dice, senti, tu adesso sei la persona peggiore che c'è al mondo, però se dai retta a me facciamo un esperimento che passa la storia, facciamo una città governata nel modo migliore possibile in cui tutti sono felici e tu diventi l'uomo più importante della storia. Platone ci prova parecchie volte coi tiranni di Siracusa. Siracusa era come New York, cioè la città più ricca e potente del nuovo mondo, cioè della Sicilia. E naturalmente gli va male tutte le volte, gli va malissimo, lo prendono, lo vendono come schiavo, cioè perché la politica nella sua svolgersi a filosofico è piuttosto complicata. Su una città così mal governata il filosofo può prendere il potere soltanto se diventa Basileus. Basileus è una parola forte in greco, è uno che comanda sul serio. In una città invece costruita finalmente secondo ragione, il filosofo comanda sempre, ma non è un Basileus, cioè non deve usare la forza. Comanda perché la città è già strutturata filosoficamente, produce filosofi attraverso procedure note, codificate, e affida a questi il compito di essere archontes, cioè governanti, non re. Perché non devono più vincere, non devono vincere la violenza brutale delle passioni politiche. Perché la città, chiamiamoli ideali, in realtà è la città come potrebbe essere, è la città che si fonda sul mito fenicio. Cioè ci sono tre miti nella Repubblica, il mito fenicio, il mito della caverna e il mito di eri. Il mito fenicio è una storiella che va raccontata alla gente per dire che gli uomini hanno, ci sono uomini di tre qualità, uomini d'oro, uomini d'argento e uomini di bronzo, che è una specie di ricordo dell'antichissima società trinitaria indoeuropea. Ma in ogni caso gli uomini d'oro sono i filosofi, gli uomini d'argento sono i guerrieri, i domeni di bronzo sono gli altri. Attenzione, questo vuol dire che c'è una gerarchia fra gli uomini? Sì. Ma vuole anche dire che queste tre qualità sono qualità non solo di ciascun uomo diverso da ogni altro uomo, ma sono anche qualità tutte e tre dentro l'anima dell'uomo. ciascuno ha dentro di sé caratteristiche auree, argente e bronze. Questo è il passaggio iniziale e fondamentale della città filosofica. La città filosofica si fonda sulla sioma che l'uomo e la città sono omologhi l'uno rispetto all'altro. Cioè la città non è una specie di recinto dentro il quale rotolano, ruzzolano delle biglie che sono gli esseri umani che si muovono come impazziti. No, la città è un macro uomo e l'uomo è una città. La giustizia consiste nel fatto che ciascun uomo dentro se stesso e la città nel suo complesso vivano in modo armonioso. Tutto quello che avevo detto finora, cioè i cicli politologici, timocrazia, oligarchia, democrazia, tiranide, sono tutte forme disarmoniche, sono tutte forme ingiuste, unilaterali, sbagliate. Non a caso su di esse la filosofia non fa alcuna presa. Non a caso la filosofia su di esse ha verso di esse soltanto un rapporto conoscitivo, cioè le guarda. Mentre invece nella città, nella bella città, la Callipolis, nella città ideale che è una città reale se si vuole, la prima cosa che si deve sapere è che l'obiettivo della vita associata è di far sì che l'uomo sia uomo al meglio. Solo in questo modo la vita associata è vita associata al meglio. Non c'è una città felice se non sono felici tutti. E come si fa ad essere felici ciascuno e tutti? Beh, bisogna prima di tutto conoscersi, sapere che dentro di noi ci sono diverse pulsioni. Devono essere non in lotta tra di loro, non violente l'una verso l'altra. Devono trovare accordo e armonia. Voi direte beh, come si fa? Il secondo mito, la caverna. il filosofo è quello che ha armonia dentro se stesso e la sa produrre negli altri attraverso la paideia, l'educazione.